Raddoppio dei contagi da Covid-19 in Italia, più 40% di ricoveri e più 61% di terapie intensive rispetto alla settimana scorsa. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sottolinea che dal 7 al 13 ottobre c'è stato un incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi, oltre 35.000 contro oltre 17.000, a fronte di un moderato aumento dei casi testati, quasi 506.000 contro quasi 430.000 e di un netto incremento del rapporto positivi casi testati, 7% contro 4. Sul fronte degli ospedali c'è un'impennata dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva, 514 contro 319, crescita costante anche sul fronte dei cessi, 216 a 155. Per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, con l'aumentare vertiginoso dei numeri, il dato nazionale non rende conto delle marcate differenze regionali e provinciali, che richiedono provvedimenti più restrittivi al fine di circoscrivere tempestivamente tutti i focolai e arginare il contagio diffuso. Ad esempio, nell'ultima settimana, l'incidenza di nuovi casi per 100.000 abitanti rispetto a una media nazionale di 58,3 è superiore a 100 in Valle d'Aosta e Liguria, e in sei province, Belluno, Genova, Arezzo, Pisa, Prato e Napoli. Per il presidente di Gimbe, gli effetti del nuovo DPCM non si potranno valutare prima di tre settimane, ma saranno in parte neutralizzati dall'incremento esponenziale dei contagi e dall'ulteriore sovraccarico dei servizi sanitari dovuto alla stagione influenzale. La Fondazione lancia un appello al senso di responsabilità e alla massima collaborazione tra presidenti di regioni e amministratori locali, soprattutto i sindaci, a intervenire tempestivamente con misure restrittive locali, compresi lockdown mirati, altrimenti, con i trend delle ultime settimane, il rischio di restrizioni più ampie, lockdown incluso, sostiene Gimbe e dietro l'angolo.